dove ricevano il nomellina, reclameranno il diritto ad avere quello che per diversi anni magari non hanno avuto proprio perché non siamo riusciti a parlare con una voce pubblica. Grazie e buon santo abrogio a tutti. Allusiva alla crisi morale che attraversiamo. Ripeto, non entro nel merito politico di quello che dirò, entro nel merito di valutazione morale di quello che dirò. Noi affermiamo che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo primo della nostra Costituzione vuole proporre un valore morale di grande rilievo, ossia che la Repubblica è democratica veramente se tutti i cittadini si impegnano con il lavoro al bene di tutti. Ok? Ecco il punto. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e la democrazia si esercita innanzitutto nel lavoro per i beni di tutti. È la base di ogni mutualità e di ogni responsabilità per il bene comune, impegnarsi tutti insieme. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e la democrazia si esercita innanzitutto nel lavoro per i beni di tutti. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e la democrazia si esercita innanzitutto nel lavoro per i beni di tutti.